Stefano Mariani si apre un 2022 di novità per il Parco San Bartolo, a cominciare dalla sua casa, dalla sua sede, quella in via di trasloco dove ci troviamo oggi a Fiorenzola di Focara, nuova sede, ci troviamo nello specifico nella sala riunioni che diventerà attiva tra un paio di settimane. Molto importante per noi perché allarga la dimensione della sede del parco, ci consente di avere un centro visite che prima il parco non aveva, che è fondamentale per la promozione di un parco. Dalla sede ai progetti, anche qui importanti le collaborazioni con i comuni e i fondi in arrivo. Certamente, stiamo concludendo una partnership con i comuni di Pesaro su fondi europei per la strada del mare di Fiorenzola di Focara per circa 500 mila euro, siamo arrivati terzi in tutta Italia e di questo insomma abbiamo potuto prendere qualcosa che ci consenterà di sistemare in modo più adeguato quella che è la strada del mare, che è l'accesso alla spiaggia di Fiorenzola di Focara e metterla in sicurezza. Non solo, il parco ha recuperato anche per la sistemazione del sentiero delle passioni, che era uscito fuori dalla progettazione dopo l'incendio, ma che era stato danneggiato e distrutto dall'incendio, con dei fondi europei, è riuscito a recuperare fondi europei e adesso ha già progettato ed è imminente la gara d'appalto del sentiero delle passioni, la riqualificazione di Piazza Dante Alighieri riportandola con una ricostruzione filologica, quello che era insomma alla fine dell'Ottocento. Quindi ricostruiamo quello che era un po' il tessuto di questo borgo così importante che ha questa grande visibilità a livello nazionale ed internazionale. Non solo c'è questo, abbiamo anche la riqualificazione di tutta l'area di Santa Marina, che per noi è un'area degradata, andava riqualificata. Il Parco ha investito fondi importanti, intorno ai 92 mila euro, per riqualificare quest'area, su fondi dati chiaramente dalla Regione, che è stato assunto, e questa è stata una scelta da parte del Consiglio del Parco, un cantoniere che ci consente di monitorare il territorio. L'utilità non è solo per noi, ma anche per tutti gli altri enti dalla provincia, perché la strada è provinciale, e abbiamo cercato di spendere, quella che è la nostra primaria, diciamo, funzione, la tutela del San Bartolo dagli incendi. E lì abbiamo investito, con un progetto sulle telecamere, tutte le autorizzazioni necessarie per una prima telecamera, adesso abbiamo chiesto un preventivo per una seconda telecamera, in modo da coprire per adesso il 60% del territorio. Ma nella nostra ottica, nella nostra visione, riteniamo che 2022-2024 può cercare di coprire l'intero territorio del Parco con questo monitoraggio e questo controllo sugli incendi, e quindi metterlo in sicurezza, non solo il Parco, ma anche la zona Preparco. Sperando che la pandemia, insomma, molli un po' la presa, nuove, diciamo, collaborazioni, nuove, diciamo, prospettive, anche con associazioni e enti, per creare sul territorio una serie di eventi promozionali che dega sempre conto, però, di quello che è il fine del Parco, cioè quello della tutela ambientale del territorio, perché così si gira, quindi gli scavi archeologici di Colombarone, la possibilità di interagire con il Museo Paleontologico, quindi creare un circuito con il Castello di Gradara, con le aree museali del Comune di Pesaro, con Gabice Mare, insomma, fare una rete unica. Tra l'altro noi c'è la riviera del San Bartolo, quindi è stato creato questo brand tra i comuni ed è così importante perché sarà poi il veicolo di promozione. Ma questo è solo un aspetto. In realtà il Parco si pone come centro per quelli che sono la progettazione, e quindi la poter accedere ai fondi europei. Questo è quello che vuole fare il Parco, cioè diventare il centro per poter attrarre delle risorse da spendere sull'intero territorio dei comuni.